L'Università di Camerino ha ospitato nei giorni scorsi la cerimonia di premiazione del concorso sulle vie della parità nelle marche, indetto dall'osservatorio di genere in collaborazione con associazioni, enti e organizzazioni sindacali nell'ambito del concorso nazionale sulle vie della parità, promosso da toponomastica femminile. L'edizione 2023, la sesta, è stata un'edizione di particolare successo sia per il numero di scuole che hanno partecipato sia per la qualità dei progetti presentati. Tra i premi assegnati, oltre ad un contributo per la scuola, anche opere di vari artisti riguardanti tematiche di genere. Anche Unicam è partner del progetto, ha tenuto dei laboratori con il Museo delle Scienze e con la sezione di informatica. L'evento è stato aperto dai saluti, tra gli altri del rettore Unicam Claudio Pettinali e della prorettrice alle pali opportunità, tutela e garanzia della persona, la professoressa Barbara Ri.